buongiorno schifosi sono la controfigura del mostro di tutti i mostri e voi siete delle persone amabili oh vi adoro ben sintonizzati state ascoltando il dancing dei time e mi state sentendo su youtube sono molto felice di questo ed è per questo motivo che vi voglio premiare sì 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 questa volta è vero vi premierò con la prima e unica per ora compilation degli ispezioni dei personaggi del dancing dei time vale a dire il professore lucazzo ma soprattutto del mostro o della contro figura del mostro di tutti i mostri che poi sono io come fare ma è semplicissimo ragazzi andate a vedere su youtube un video sì 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 un video dove io vi mostrerò un'immagine da indovinare l'oggetto misterioso del mostro cosa dovete fare dovete scrivere nei commenti solo ed esclusivamente sul canale di radio dancing dei time di radio ddt qui su youtube qual è l'oggetto misterioso del mostro che indovina per primo vince il cd con gli spezzoni del dancing dei time bollinato sia e state tranquilli tutto in regola vi arriverà a casa e questa volta è vero non come la ceppa che dice sempre mauro allora siete pronti guardate un po qui ecco un dettaglio dell'oggetto misterioso del mostro che cos'è potete scrivere quante volte volete non c'è problema anche 100 messaggi l'importante che siate i primi ad indovinare questo oggetto misterioso allora cosa aspettate schifosi scrivete subito immediatamente scrivete 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 provateci e attenzione passate parola ai vostri amici perché dobbiamo avere mille commenti anche di più comunque il primo il più veloce a rispondere esattamente a quelle l'oggetto misterioso che è questo guardatelo bene cosa potrà essere bene il regalo andrà la compilation su cd con gli spezzoni del dancing dei time mostro professore lucazzo magari anche giorgio cremona state bene attenti guardatelo ancora schifosi scrivete su youtube nei commenti qual è l'oggetto misterioso e andate a van cooler figli di bottarga stai male stai male stai male